Siamo con Vladimiro Greco, presidente di FENAGIFAR. FENAGIFAR ha sposato già da tempo il progetto per sostenere la campagna di tumori pediatrici. Abbiamo sostenuto un progetto di ricerca per l'oncologia pediatrica sin dal 2020, grazie a una spiccata sensibilità del past president della nostra federazione, la dottoressa Carolina Carosio, che in un momento in cui il Covid purtroppo era veramente ai massimi livelli, riconobbe in questo progetto un valore specifico veramente molto alto sotto il profilo umano e ci coinvolse come consiglio direttivo e tutta l'assemblea in questo tipo di progettualità. E devo dire che le AGIFAR hanno risposto tutte in maniera molto unita, importante, tale che la ricerca che aveva come obiettivo quello di raccogliere inizialmente 30.000 euro per un assegno di ricerca, alla fine arrivò quasi a 40.000 euro. Siamo particolarmente affezionati a questa progettualità che ci ha permesso di donare, ma al contempo ci ha regalato tantissimo sotto il profilo umano e siamo contenti di collaborare con la Fondazione Veronesi per qualsiasi altro tipo di progettualità che vogliono mettere in campo successivamente. Mi ha colpito la definizione che hai dato delle farmacie. hai detto che sono gli educatori sanitari della porta accanto, quindi effettivamente le farmacie possono contribuire anche in tanti altri progetti. È una definizione che è uscita spontanea, ma il senso era sottolineare l'opportunità incredibile che hanno i farmacisti di essere educatori sanitari, che ha un ruolo che è proprio del farmacista, per cui è pronto, è formato, ma ha la straordinaria opportunità di farlo tutti i giorni, costantemente con centinaia di cittadini, di pazienti e a volte anche di amici. In questo caso più che mai è importante farlo, perché è per un'iniziativa nobile che va a toccare le persone più fragili, più indifese, che sono i bambini a cui, per fortuna con questo progetto, riusciremo a garantire nel nostro piccolo la possibilità di vivere la cosa più importante, la loro stessa vita, di poter crescere, di poter avere un faturo, di potersi costruire una famiglia. Grazie a tutti!